Ben ritrovati con l'informazione di TRMH24. In apertura c'è subito la cronaca sequestrata e violentata all'uscita di scuola e la drammatica vicenda che è accaduta nella provincia Batta per protagonista una ragazza minorenne. Allora noi ci andiamo a collegare subito con la collega Cristina Mastrangelo che in questo momento si trova ad Andria, luogo dove sarebbe avvenuta la violenza. Allora ci colleghiamo per tutti i dettagli. Sì Saverio dici bene, ci troviamo ad Andria da dove questa mattina ci giunge la terribile notizia di una violenza consumata ai danni di una minore. L'uomo, un incensurato presunto responsabile della violenza, è stato arrestato questa mattina nelle scorse ore e risponderà di violenza aggravata dall'aver approfittato della minore età della ragazza e dall'aver utilizzato sostanze stupefacenti e alcoliche. Ma ricostruiamo brevemente la vicenda perché secondo quanto emerso dalle indagini della polizia di Andria, l'uomo avrebbe adescato la ragazzina all'uscita di scuola. Pochi dettagli in merito ma pare che l'abbia avvicinata promettendole di portarla ovunque lei avesse desiderato. Ecco poi dopo averla agganciata l'avrebbe portata in un casolare dove qui dopo averla drogata e averle somministrato delle sostanze alcoliche qui avrebbe abusato di lei. Subito dopo l'avrebbe abbandonata nei pressi di un ospedale di un'altra città qui nelle vicinanze di Andria. La violenza, lo ricordiamo, si sarebbe consumata secondo le indagini in un casolare in una campagna del posto. Le indagini della polizia di Andria sono partite dopo la denuncia della ragazzina nelle scorse settimane. Sembra che si sia recata in una struttura sanitaria a cui avrebbe denunciato l'accaduto e subito dopo sarebbero partite le indagini. Ricordiamoci tanto riservo sulla vicenda, si tratta di una minorenne coinvolta, non conosciamo l'età, non conosciamo la scuola nei pressi della quale è stata adescata. Ma io al momento ti restituirei la linea, Saverio, sicuramente torneremo ad aggiornarvi se ci dovessero essere aggiornamenti. Grazie Cristina, chiaramente una questione molto delicata che continueremo a seguire come sempre accade in questi casi. Continuiamo a occuparci di cronaca, continuiamo a occuparci di criminalità ma da un altro fronte, quello delle modalità per affrontare l'emergenza. Oggi si è riunito un consiglio regionale in Puglia con l'unico tema, un consiglio monotematico dedicato alla drammatica situazione nel Foggiano. Sentiamo. Un incontro utile a produrre risposte e soluzioni ai problemi dei cittadini pugliesi, in particolare della Capitanata, in merito all'emergenza sicurezza che ormai rappresenta una piega radicata del territorio. Questo l'intento del Consiglio regionale monotematico su sicurezza e criminalità in provincia di Foggia, fissato durante lo scorso mese di agosto all'indomani di due atti intimidatori per mezzo di ordigni fatti esplodere nei pressi di due esercizi commerciali, il resto sia ancora più urgente a seguito dello stupro di una minorenne a Cerignola e dell'omicidio di un pregiudicato cinquantenne nel Foggiano. Vicende che vedono protagonista la cosiddetta Quarta Mafia, che fa da tappo allo sviluppo di un territorio ricco di bellezze naturali e di risorse agricole, ma dove occorre un fermo intervento da parte dello Stato. Abbiamo necessità in qualche modo che anche la politica si prenda assolutamente la responsabilità di scelte che siano opportune rispetto al momento storico che la Capitanata vive. Per momenti eccezionali vanno prese misure eccezionali. Abbiamo la Quarta Mafia, è conclamata, e riteniamo che non possa essere, se non l'aumento ovviamente delle forze dell'ordine, se non l'aumento dei presidi, laddove sono stati chiusi i tribunali vanno riaperti, laddove è in qualche modo possibile avere una DDA dedicata totalmente alla città, va necessariamente aperta una Corte d'Appello, o meglio la sezione staccata da parte di Bari a Foggia, come avviene poi su Tarantolecce, quindi niente di eccezionale, ovviamente ci vuole una legge. Intervento, quello richiesto a gran voce da parte di tutti gli attori protagonisti del territorio, che dovrebbe partire da una seria politica di sviluppo occupazionale, che protegga i cittadini dalla trappola della malavita. Sì, la Capitanata sconta purtroppo tanti ritardi e una serie di emergenze, una su tutta è il problema della criminalità che attanaglia il nostro territorio, abbiamo tantissime potenzialità, ma purtroppo inespresse anche a causa di una criminalità molto forte. C'è la squadra Stato che sta facendo un lavoro straordinario, ma non basta, servono più uomini, più mezzi, serve una geografia giudiziaria più attenta ai territori, in quanto un territorio di Capitanata è un territorio abbastanza grande. Da qui la presenza in Consiglio degli stessi referenti del Governo, che assicurano ascolto e provvedimenti celeri e puntuali sulla base delle necessità emerse dal dibattito territoriale. Il mio compito oggi è quello di raccogliere quelle che sono le esigenze del territorio e provare ad ipotizzare un piano terapeutico, che non è difficile perché indubbiamente più risorse, più attenzione e più forza contrattuale contro la criminalità, però questi sono principi, i principi poi devono diventare realtà, diventare provvedimenti. Sono convinto che oggi questo Consiglio regionale monotematico consentirà di avere le idee più chiare, e se non si hanno le idee più chiare le terapie non possono essere efficaci. Sarà un ottimo incontro e sono convinto che il Governo sarà in condizioni di ricepire quelle che sono le istanze che vengono dal territorio, soprattutto dalla politica di territorio, che oggi credo abbia una particolare rilevanza con un Governo che finalmente è stato eletto e ha legittimazione proprio dai territori. Nel corso del Consiglio regionale è intervenuto anche il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, definendo urgente un intervento nell'ambito dell'attuale situazione degli uffici giudiziari di Foggia. Tutto parte dalla riforma della geografia giudiziaria del 2013, ha spiegato la legge dello Stato che ha soppresso alcuni tribunali e procure tra cui la procura di Lucera e tutte le sezioni distaccate di Rodi Garganico e di Apricena, di Sansevero, Manfredonia, Cerignola e Trinitapoli. Questo fatto ha determinato anche che tutti i processi che pendevano e che prima si celebravano in queste sezioni distaccate, oggi si celebrano a Foggia e il numero è cresciuto in maniera esponenziale. Queste le precisazioni del procuratore capo Vaccaro. Continuiamo con la cronaca e torniamo ad occuparci dell'omicidio Stasi. I carabinieri hanno sequestrato un'arma che potrebbe essere compatibile con quella utilizzata per il delitto. Un altro tassello si aggiunge alla complessa indagine sull'omicidio di Paolo Stasi, 19enne, ucciso a Francavilla Fontana il 9 novembre scorso. I carabinieri hanno sequestrato una pistola a tamburo calibro .32 con matricola Brasa che potrebbe essere compatibile con quella che ha esploso i due colpi contro Stasi. La pistola era in possesso di un uomo di 54 anni arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina. Nell'ambito delle perquisizioni nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati anche 185 grammi di marijuana. E per questo accusato anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ora si trova nel carcere di Brindisi. Per verificare la compatibilità dell'arma con quella utilizzata dall'assassino di Stasi i carabinieri invieranno la pistola a Iris. Nei giorni scorsi l'autopsia sul corpo del 19enne ha confermato che l'omicidio è avvenuto con modalità simili a quelle di un'esecuzione. Il killer lo avrebbe atteso fuori dall'uscio di casa e avrebbe esploso due colpi di pistola. I proiettili hanno attraversato il corpo della vittima e si sono poi frantumati all'esterno come confermano alcuni resti ritrovati dai carabinieri della scientifica sul luogo del delitto. Ancora nessuna ipotesi sul possibile movente. Intanto ieri si sono tenuti i funerali della vittima a Francavilla. Il sindaco Antonello Denuzzo ha proclamato il lutto cittadino per esprimere con il silenzio la vicinanza della comunità di Francavilla-Fontana alla sua famiglia per il dolore devastante che l'ha colpita. Un incidente mortale questa mattina si è verificato sulla strada provinciale 26 nel Materano. Sentiamo. Un uomo di 49 anni calabrese è morto stamani in un incidente stradale avvenuto per causa in fase di accertamento intorno alle ore 5.15 nei pressi della diga di San Giuliano tra Miglionico e Matera. L'uomo era alla guida di un auto articolato che dopo aver sfondato il guardrail è precipitato da una via d'otto. Il luogo preciso dell'incidente è il km 2.400 della strada provinciale 26 sul viadotto Foggia di Lupo. L'auto articolato era a carico di una piasta in calcestruzzo. La causa dell'uscita fuoristrada è probabilmente un malore o un colpo di sonno. L'uomo prima di raggiungere rovienosamente il terreno sottostante ha fatto un volo di circa 10 metri. All'arrivo dei vigili del fuoco sul posto il suddetto mezzo era posizionato con le ruote per aria e quindi la cabina totalmente schiacciata tant'è che per recuperare l'unica persona deceduta sul colpo si è dovuta alzare la suddetta cabina per circa un metro con l'autogru. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia stradale. È stato scoperto un sistema di riciclaggio con sede nell'Eccese. La Guardia di Finanza ha sequestrato liquidità e beni per oltre 133 milioni di euro. Avrebbero messo a punto un complesso sistema di riciclaggio internazionale attraverso una fitta rete di società italiane ed estere il cui unico scopo era quello di produrre falsi documenti. Al vertice del sistema un operatore attivo nel commercio di oro e metalli preziosi la cui sede operativa era nell'Eccese. Questa l'accusa che ha portato all'arresto di 7 persone, una in carcere e 6 ai domiciliari e all'applicazione di una misura interdittiva. Nell'ambito delle operazioni sono stati sequestrati beni e liquidità per oltre 133 milioni di euro corrispondenti al profitto ricavato dei diversi reati. È stato inoltre sequestrato un intero ramo d'azienda pari a 1 milione e 400 mila euro. Gli indagati avrebbero utilizzato in sostanza diverse società estere per far transitare altissime somme di denaro a fronte della fatturazione di acquisti di partite di oro proprio dall'estero. Operazioni di fatto però mai eseguite. La liquidità generata dalla società salentina veniva poi immediatamente reimmessa sul mercato italiano attraverso prelievi dalle banche estere e la realizzazione di ulteriori transazioni. Le fiamme gialle hanno stimato che in un solo triennio tra il 2016 e il 2020 gli indagati avrebbero ritirato contante dall'estero per oltre 120 milioni di euro. Per impedire all'erario di incassare le ingenti imposte non pagate con una serie di atti fraudolenti gli indagati si sarebbero liberati fittiziamente degli asset patrimoniali della società poi fallita trasferendoli a un'altra società che si occupava della stessa attività e riconducibile di fatto alla stessa governance. La sede di quest'ultima società sarebbe stata trasferita fittiziamente poi in Bulgaria nel tentativo di evitare e di soddisfare le richieste dei creditori. Ci spostiamo ora a Potenza. È stato siglato in prefettura un protocollo di intesa contro le infiltrazioni criminali negli affidamenti di lavori e forniture. Prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori e servizi e forniture è questo l'obiettivo del protocollo di intesa che è stato stipulato in prefettura a Potenza tra il prefetto del capoluogo di Regione Lucano, Michele Campanaro ed il sindaco di Melfi, Giuseppe Maione. Il settore dei contratti pubblici è un settore sul quale dobbiamo sviluppare con le amministrazioni locali le sinergie più forti essendo uno dei settori su cui si sviluppano gli appetiti della criminalità principali della criminalità ma anche quelli dove possono esserci forme di corruttela con comitati di affari. I nostri controlli con il gruppo Interforze Antimafia si concentra principalmente sui cosiddetti contratti sopra soglia cioè quelli sopra i 150 mila euro in questo modo devo presumere che l'attività di verifica e di controllo da parte della prefettura che si estende anche ai contratti sotto soglia potrà far venire in evidenza anche situazioni che debbono essere oggetto ovviamente di intervento preventivo. Un protocollo che è stato fortemente voluto dalla prefettura dal Ministero degli Interni e dall'amministrazione comunale di Melfi come ha spiegato il primo cittadino della città federiciana. Quello della prevenzione appunto dei ritentativi delle infiltrazioni appunto della criminalità organizzata negli affidamenti appunto che i comuni fanno relative appunto alle forniture, ai lavori e dai servizi. È uno scopo importante perché facciamo capire veramente da quale parte stanno le istituzioni cioè dalla parte della legalità e quindi naturalmente sottolineiamo come la responsabilità sociale, l'educazione civile, il rispetto delle regole e naturalmente la legalità sono il modus operandi della nostra amministrazione e quindi è un segnale forte che mandiamo anche alla nostra comunità. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di transizione energetica. Taranto il tavolo della CGL sul tema delle rinnovabili nell'industria. La Puglia può diventare l'hub energetico del paese ma serve una pianificazione, serve fissare tempi certi e promuovere politiche industriali nuove. Se ne è parlato non a caso a Taranto su iniziativa della CGL. La Puglia e Taranto sono sicuramente strategici rispetto alle politiche di transizione energetica, possono diventare un grande hub energetico per tutto il paese. Il tema è provare a costruire una condizione attraverso la quale si fanno investimenti sulla transizione energetica ma si provi anche a ragionare e a comprendere quali sono le ricadute sul territorio in termini di industria, di politiche industriali e quindi legare la transizione energetica, lo sfruttamento e l'utilizzo del territorio regionale pugliese ai fini della transizione ma anche provare a insediare sui nostri territori insediamenti industriali e molto banalmente capire mettiamoci le paleoliche ma facciamo in modo che quelle si costruiscono in Puglia. Di sicuro qui ci sono le condizioni climatiche, il vento ma anche il sole per sviluppare queste fonte energetiche. Ci sono player importanti come la Vestas che costruisce le paleoliche e i grandi player delle aziende nazionali partecipate come l'Enea, l'Eni e la Snam. Dobbiamo quindi affrontare il tema di come sfruttare questa occasione come fare in modo cioè che ci sia un'accelerazione per impiantare questi investimenti e di farlo promuovendo anche una filiera industriale promuovendo lavoro e buon lavoro e sviluppo economico nel nostro territorio. Monitora e propone il sindacato, poi le decisioni sono politiche non siamo fermi, assicura l'assessore regionale a partire innanzitutto dallo snellimento delle procedure. Abbiamo da poco approvato una legge via con un riordino anche del procedimento e stiamo lavorando e a febbraio porterò in giunta il PEAR, il Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia. Il futuro o il presente di questa regione non potrà che essere la riorganizzazione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili. Con l'ultima tappa di Matera si conclude l'iniziativa promossa dall'Eni denominata Prosumer Road. Da aprile a novembre oltre 3.000 i chilometri percorsi per visitare e dialogare con i principali territori in cui opera la multinazionale. La transizione energetica dalle fonti fossi a quelle rinnovabili è un processo che necessita di tempo e non è gratis ed uno dei principali vettori su questo percorso rimane comunque il gas con tutte le ripercussioni geopolitiche che l'approvvigionamento da questa fonte comporta. Sul lato tecnico un grosso player energetico come l'Eni ha un ruolo importante per contribuire a un sempre più crescente rispetto per l'ambiente. L'ultima tappa di Prosumer Road è stata utile anche a questo ma che idea si sono fatte le istituzioni? L'Eni è un player internazionale ed è italiano ed è un sicuro interlocutore anche in termini tecnologici, in termini di sperimentazione ed è un soggetto che è sicuramente in grado di reggere la sfida internazionale quindi dobbiamo costruire rapporti dialettici ovviamente noi abbiamo prerogativi di tutela del territorio quindi tutte le attività, anche quelle che fanno l'Eni devono essere valificate, validate dobbiamo preservare Le soluzioni utili sono quelle di breve periodo come le comunità energetiche ma si è guardato anche molto avanti fra le tante tecnologie oggi c'è stata illustrata un po' più nel dettaglio anche quella della fusione nucleare che potrebbe significare uno stravolgimento del modello di vita e davvero riprodurre l'energia del sole è una cosa che poteva sembrare assolutamente avveniristica vent'anni fa probabilmente fra trent'anni sarà la realtà Oltre alle comunità energetiche per guidare questo processo c'è altro? Ce ne sono tante soluzioni purtroppo non è una sola noi avremo bisogno di un mix di generazione elettrica fatto naturalmente in principio al modo dalle fonti rinnovabili ma non solo dobbiamo garantire comunque gli sbilanciamenti che le fonti rinnovabili intermittenti provocano e quindi avere anche percorsi sulle nuove fonti decarbonizzate biocarburanti per arrivarci naturalmente abbiamo bisogno del gas perché il gas è il vettore principale della transizione energetica e abbiamo bisogno di tempo In questa fase di transizione sarà necessario magari estrarre ancora un po' di più rispetto al solito secondo lei? Guardi questa è una domanda più da tecnico che da politico secondo me voglio dire noi siamo in una situazione ottimale è chiaro che se a livello governativo, a livello generale si dovesse essere una diversa politica allora bisognerà pensare anche a questo Il futuro dell'acqua al centro della conferenza Crosswater International da oggi e fino al 25 novembre al Parco dei Principi di Bari partner istituzionali, locali e internazionali a confronto sulla gestione delle risorse idriche Riutilizzo e ottimizzazione delle risorse idriche al centro del dibattito della prima giornata di lavori di Crosswater International Conference l'evento tematico sul sistema di gestione integrato dell'acqua in corso all'hotel Parco dei Principi di Bari fino al 25 novembre vede protagonista la regione Puglia insieme ad Acquedotto Pugliese, regione Molise comune di Tirana, società Tirana Water e West Water Utility e Acquedotto regionale Montenegrino sul futuro dell'acqua nei prossimi anni in regione e non solo il presidente di ACUPI, Domenico Laforgia La vicenda di Acquedotto Pugliese è la preoccupazione che i cambiamenti climatici vadano a ridurre la capacità di acqua a nostra disposizione nei nostri invasi, nei luoghi in cui noi facciamo il prelievo quindi dobbiamo in qualche maniera ridurre il prelievo da questi invasi come si fa? Ovviamente razionalizzando l'uso dell'acqua nelle nostre case dall'altro lato riducendo quello che è il prelievo extrapotabile quindi diciamo quello dell'agricoltura a cui possiamo sopperire andando ad utilizzare l'acqua che è un reflo dei nostri impianti di depurazione noi abbiamo un piano strategico che prevede 2 miliardi di investimento in 4 anni, che sono tanti e possono essere un motore di sviluppo del territorio adeguato La sostenibilità nella gestione della risorsa acqua passa anche dal know-how in ambito tecnologico come ha sottolineato il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino La riduzione del consumo dell'acqua rientra in un più complesso sistema che guarda all'economia circolare, alla capacità di lavorare per uno sviluppo sostenibile certamente l'introduzione di nuove tecnologie tipo l'agricoltura di precisione la capacità di monitorare con i dati satellitari le coltivazioni per ridurre il consumo dell'acqua è sicuramente importante ma questo deve entrare in un discorso più ampio nei quali anche l'università deve dare il proprio contributo Crosswater è un progetto tematico e trasfrontaliero finanziato dal programma Interreg Italia Albania Montenegro e cofinanziato dall'Unione Europea sulle opportunità di crescita del programma il rappresentante regionale montenegrino Ivan Spadier è davvero importante perché abbiamo ricevuto dei fondi dall'Unione Europea senza i quali non saremo riusciti a sviluppare questi progetti nell'ambito del miglioramento della qualità, della quantità dell'acqua dall'8 al 10 dicembre si terrà l'evento L'Acus, la terra dei laghi che interessa i comuni di Lesina e di Cagnano Varano Lesina e Cagnano Varano unite nel segno di L'Acus, la terra dei laghi si tratta di un progetto nato con la finalità di proporre un'esperienza culturale giocata sul rapporto tra inogastronomia, cultura, paesaggio e unione tra la comunità locale e turisti l'evento si terrà dall'8 al 10 dicembre ma sarà soltanto il punto di partenza di un ben più articolato progetto è anche l'idea di voler far conoscere un territorio che è ancora sconosciuto e più soprattutto perché è un territorio attraente pieno di interessi sia dal punto di vista naturalistico ma anche e soprattutto dal punto di vista enogastronomico il lago non è quindi luogo di calma e immobilità bensì ecosistema in continua evoluzione dal quale trarre ispirazione anche per la sua promozione la terra dei laghi è un sogno per il momento ma che piano piano prende forma e diventerà realtà diventerà realtà attraverso quella che deve essere una bella fantastica sinergia tra i territori i territori e la gente che abita questi territori valorizzare una terra che merita di essere valorizzata un territorio importante per il Gargano per la Capitanata ma non solo un territorio importante per tutta l'Italia ha bisogno di essere conosciuto e l'ACUS è il progetto giusto che faccia conoscere sicuramente questo territorio importante il distretto dei laghi è quel distretto territoriale che parte da Lesina arriva a Cagnano e giunge a Dischitella e a Carpino quali appunto se vogliamo comunire i veraschi delle due lagune le uniche due lagune che abbiamo in Puglia noi ci occuperemo della cultura infatti faremo una mostra dove i nostri ragazzi si sono cimentati a fare delle foto alle loro mamme parliamo di donne le loro mamme che sono poi mamme speciali perché si occupano di loro per tutta la vita diciamo quindi abbiamo pensato a questa mostra fotografica proprio parlando delle mani Dopo la prima tappa nella Capitale al via anche a Bari la settima edizione del Forum delle giornaliste del Mediterraneo 60 ore di formazione 9 giornate 80 tra peace builders giornaliste attiviste accademiche provenienti dai paesi euro-mediterranei e da Afghanistan Iran Russia Ucraina Sahel Birmania Colombia e la settima edizione del Forum delle giornaliste del Mediterraneo che dopo la prima tappa romana giunge a Bari al ridosso della data del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne settima edizione il Forum delle giornaliste del Mediterraneo per il secondo anno finanziato dal Ministero degli Esteri e fin dall'inizio dal Corecom Puglia significa che il governo il Ministero il nostro paese crede in questo progetto che pone al centro il ruolo delle donne nei processi di costruzione di pace per questo oggi giornaliste provenienti dai cinque continenti attiviste ricercatrici si confronteranno su una pace possibile un appuntamento ormai ricorrente come consuete alla mission dei lavori creare ponti e abbattere muri promuovendo una riflessione sul lavoro delle giornaliste investigative come presidio di democrazia e di pace in questa edizione la riflessione si concentra sul tema corpi ecosistemi comunità smembrati dai conflitti ricucisi dalle donne accendendo un faro sulle pratiche di costruzione di pace messe in atto dalle donne sui territori devastati dalle guerre che noi con questo forum che tra l'altro si inserisce proprio in un contesto politico internazionale sempre più dominato dalle guerre abbiamo voluto restituire un ruolo alle donne nei processi di pace e nella partecipazione proprio ai processi di pace nonostante poi le donne siano spesso escluse dai tavoli di negoziazione internazionale lo abbiamo voluto fare mettendo proprio a confronto diverse pacifiste ed attiviste che provengono da diversi paesi del mondo per redigere proprio nero su bianco un manifesto che all'incirca si forma in dieci punti sostanziali in dieci punti programmatici che vogliamo poi presentare alla comunità internazionale e al governo ci spostiamo a Matera Monsignor Cagliazzo ha presentato il suo libro Tornare al gusto del pane Farci noi stessi pane sentiamo dal fuoco dello spirito e il reso nutrimento e di molti riflessioni testimonianze ed esperienze dell'evento ecclesiale che dal 22 al 25 settembre scorsi ha riunito a Matera 1600 delegati dalle diocesi di tutta Italia e oltre 3500 pellegrini e che si è concluso con la messa presieduta da Papa Francesco Tornare al gusto del pane Farci noi stessi pane è questo il titolo del libro che Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo arcivescovo della diocesi di Matera Ersina ha scritto in occasione del 27esimo congresso eucaristico nazionale presentato nell'auditorium di Casa Sant'Anna all'incontro moderato da Don Michele Larocca sono intervenuti Don Mario Castellano vicario episcopale per l'evangelizzazione e la pastorale dell'arcidiocesi di Bari Bitonto e la professoressa Maria Pinarizzi vice direttrice dell'ufficio liturgico dell'arcidiocesi di Matera Ersina scrive nella profeazione Monsignor Leonardo Sapienza attingendo la saggezza popolare che il pane di ieri è buono domani in analogia col pane acquaristico di cui è segno e che chiede di essere spezzato per farsi dono a tutti il pane è sempre buono l'importante è che c'è quando il pane riusciamo ad averlo e riusciamo anche a salvaguardarlo e a condividerlo è sempre buono è ancora migliore quando siamo capaci di spezzarlo insieme agli altri e non essere egoisti per cui il pane diciamo se dovessimo proprio sintetizzare è la cosa più bella che esiste perché è veramente ciò che noi gustiamo è ciò che condividiamo ed è ciò che ci dona la possibilità di ritrovarci attorno alla stessa tavola alla stessa menza festeggiamenti per Santa Cecilia tra pettole banda e processione hanno preso il via i festeggiamenti per il Natale a Taranto il suono della banda la processione il profumo delle pettole Taranto si è svegliata di notte in rigoroso secchio della tradizione di Santa Cecilia che nel capologo ionico dà il via al periodo natalizio il 22 novembre infatti in tutto il mondo si festeggia la Santa Patrona dei musicisti ma solo a Taranto Santa Cecilia è stata collegata alle feste natalizie inaugurando il Natale più lungo una giornata di festa intensa e dedicata al rinnovo dei riti più cari tarantini dalla frittura delle pettole al suono delle pastorali alle luci che addobbano i quartieri alle due è iniziato il primo giro delle bande cittadine con la grande orchestra di fiati Santa Cecilia diretta dal maestro Giuseppe Gregucci che insieme al complesso bandistico Paesiello diretto dal maestro Vincenzo Simonetti ha portato per le vie i suoni della tradizione poi la benedizione dei musicisti in cattedrale alle 5.30 e la partenza della processione di Santa Cecilia in direzione della chiesa di San Giuseppe dalle 6 alle 9 altri due gruppi musicali hanno percorso le strade della città concludendo il loro pellegrinaggio ai piedi dell'arcivescovado per il saluto di Monsignor Filippo Santoro alle 9.30 il saluto dell'amministrazione comunale a Palazzo di Città la giornata si chiuderà quindi alle 18.30 in Piazza della Vittoria con il momento più atteso l'accensione delle luci di Natale ci fermiamo qui vi ringraziamo per l'attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni e l'appuntamento di Natale e l'appuntamento